Quante pecore perdute hanno ritrovato la via dell'ovile grazie al ministero al servizio instancabile ed esemplare di Padre Pio. Padre Pio che conosceva ognuno per nome, non eravamo dei numeri o degli anonimi per lui, ogni fratello, ogni sorella che si afficinava a lui aveva un nome, Padre Pio ne conosceva la storia, il nome, conosceva tutto. Tante volte Padre Pio era solito dire, quando uno magari tardava nel ritornare, diceva perché ci hai messo tanto tempo a tornare, ti stavo aspettando. Ognuno era caro al cuore di Padre Pio, ognuno è caro al cuore di Dio. E allora chiediamo al Signore che la nostra risposta all'amore di Dio possa essere generosa. Il Signore attende che noi lo riamiamo, Lui ha dato la vita per noi, ci ha meritato il paradiso, ci ha meritato la vita eterna. Non possiamo noi dimostrarci indifferenti, apatici o ingrati di fronte al dono di Dio, ma siamo chiamati a corrispondere con un amore che possa ricambiare, per quanto ci è consentito, l'amore di Dio nei nostri confronti. Sia lodato Gesù Cristo.